Ciao Fioi, oggi vi insegno a fare masanette. Le semmo le masanette in acqua boente con una foglia dell'oro per 8 minuti. Spegniamo il fogo e le assiamo su acqua altri 8 minuti. Passare il tempo le tiriamo fuori dall'acqua, tiriamo via le zampine, il codin, stacchiamo la panza da testa, tiriamo via anche le branche, stacchiamo il corallo della corazza e lo svodemo per bene. Tritiamo a sto punto il prezzemolo fresco, ciamo un spigoletto di aglio e che tiriamo via la camisa e la sua anima. Tritiamo quindi l'aglio insieme al prezzemolo e a sto punto mettiamo su una tarina e masanette, una bella masanella del pevere fresco, del sal fine, il tritto del prezzemolo e aglio, un bel giosso di olio e misciamo per bene. Zontiamo un giosso di acqua di cottura e se può attaccare e impiattare. Sì o no, mettiamo anche sotto ceto, che buon taffio, è veramente buono e che spettacolo. Se vi ha piaciuto il video, mettiamo un like. Ciao!